Ogni comunità ha bisogno di un sindaco che si faccia rispettare, che faccia sì che la centralità del comune da lui amministrato venga garantita e venga assicurata. E' questo uno degli obiettivi che si prefigge il dottor Angelo Cefalo, candidato sindaco del centrodestra nel comune appunto Laertino. Allora sindaco la centralità di una comunità, il rispetto nelle sedi che contano in sede regionale, in sede nazionale della collettività e il primo cittadino ha questi poteri. Quindi la passione che ogni cittadino e io da sindaco avrò nei confronti e nel rispetto di ogni cittadino Laertino mi porterà con grande coraggio a portare alla terza quei diritti e quelle occasioni che la regione metterà a disposizione della stessa cittadina, che lo Stato metterà a disposizione della cittadina e creando quindi un collegamento diretto con la regione Puglia, facendo appello al voto al CDX e quindi a Raffaele Fitto come presidente e Agostino Perrone, detto Costantino, come candidato consigliere, se noi avremo la possibilità di avere un contatto diretto, quindi un canale diretto verso la regione, il tutto sarà molto facilitato. Unità di colore tra comune e regione. Perfetto, se si avrà la possibilità di avere un'unità di colore, il sindaco che avendo un carattere molto caparbio per le sue idee per i propri cittadini andrà ad aprire tutte le porte necessarie e esistenti sia a livello provinciale che regionale che nazionale e per non dire anche europeo. Considerando il discorso internazionale, non è un'esagerazione, ma lo dicevamo prima dell'intervista, la terza ha un patrimonio inestimabile, quello delle maioliche. Questa ricchezza culturale non è un qualcosa che si riduce alla provincia di Taranto, ma può avere una sua dimensione e deve brillare a livello internazionale. Proprio così e quindi l'impegno nostro sarà quello proprio di, attraverso la simbiosi dei lavori storici, tipo la produzione, parlando di agricoltura, produzione di vino, di olio e quindi di allevamenti importanti nella città di La Terza, porteremo la maiolica attraverso lo sfruttamento proprio e quindi la creazione di indotti. Un marketing territoriale. Un vero e proprio marketing. Il tutto ovviamente ha portato dalla voglia di fare e mettendo a proprio agio il cittadino laertino nell'impegnarsi e quindi nel raggiungere gli obiettivi quali sono quelli dell'amministrazione di centro-destra della città laertina. Grazie.